Exil ammortizzatori sociali scadenza e forte la preoccupazione tra i lavoratori. La politica ci ha abbandonato e non ha riparato ai danni precedenti. Così ai nostri microfoni l'operaio Remo Fantin della RSU. Caso Carbossulci su una lettera aperta della Filchen CGL. Il segretario generale Francesco Garau interviene sul caso dell'ex minatore. I casi isolati non devono sporcare l'immagine di un territorio fatto di lavoratori che spesso hanno sacrificato la propria vita per il lavoro. Carabinieri in azione tra Carbonia, Sant'Antioco e Teulada. Furti, denunce per ricettazione, guida e stato di ebrezza. Non si ferma l'azione di controllo dei militari della Compagnia di Carbonia in tutto il territorio. Garanzia Giovani, Iglesia si candida a diventare Youth Corner. Il programma regionale orientato alla lotta della disoccupazione giovanile e della dispersione scolastica potrebbe accogliere il comune inglesiente come centro di riferimento. Ben ritrovati nel telegiornale di Canale 40. L'industria è in apertura del TG. È forte la preoccupazione tra gli operai della Exila di Portovesme, chiusa nel 2008, perché molti di loro non hanno più gli ammortizzatori sociali. Per altri, il diritto al sostegno scadrà a breve. Abbiamo sentito ai nostri microfoni uno dei tanti lavoratori, Remo Fantin, che ci ha parlato di questi sei anni vissuti con i suoi colleghi, tra speranze, delusioni e la sensazione di un abbandono da parte della politica. L'intervista è di Manolo Mureddu. Stiamo pattendo le pene dell'inferno e obiettivamente le patiscono ancora di più oggi coloro che praticamente non sono più neanche sotto ammortizzatore sociale. Come si può vivere sei anni con l'ammortizzatore sociale, in alcuni casi avere anche l'incertezza dello stesso? Ma guarda, io ti faccio l'esempio mio, che tra l'altro posso anche dire che sono uno, tra virgolette, dei più fortunati. Stringendo, evitando praticamente di vivere come ad un certo punto si viveva. Tagliare tutto quello che era superfluo. Per me una partita, come dire al televisore, se posso vado a vederla magari fuori perché non me lo posso permettere di avere né Sky né altre cose di questo tipo. Ma questo è un esempio. Il dramma veramente l'ho vissuto vedendo padri di famiglia piangere nel vero stesso senso della parola perché stavano togliendo i propri figli dall'università. Tagliando quelle cose minime che ad un certo punto riuscivano a dare alla loro famiglia. La situazione in questo momento è quella di attesa per capire se la Regione darà le autorizzazioni per poter installare quelle paleoliche indispensabili all'autoproduzione energetica e quindi al riavvio dello stabilimento. È il frutto di questo ritardo che praticamente dal 2012 doveva essere concessa, questo via per il parco eolico, e ancora oggi non c'è. E tra l'altro in questo momento non servirebbe neppure perché in buona sostanza l'impresa a causa di questi ritardi ha dovuto partecipare a bandi che erano sempre più restrittivi e nello stesso tempo sempre più in difficoltà per poterli vincere. Tant'è vero che nonostante un ribasso che ci hanno detto del 22% lo ha perso. Noi non siamo assolutamente contrari a che la Regione, lo Stato, la Comunità Europea possa finanziare, possa agevolare imprenditori che praticamente investono. E poi se sono saldi, se sono del luogo, ancora di più. Per noi prioritaria la ripartenza della fabbrica e il settore alluminio che praticamente a noi ci lega a quella certezza di reddito e di ricchezza. E di prospettiva. In questi anni vi siete mai sentiti abbandonati? Beh, abbastanza. La politica ci ha rovinato e nello stesso tempo non ha riparato alle rovine che ha fatto in precedenza. Con una lettera aperta il segretario generale della Filcen CGL, Francesco Garau, ha voluto sottolineare la gravità delle dichiarazioni rilasciate dall'ex dipendente della Carbus Sulcis, mettendo in evidenza che si tratta di pochi casi isolati e che questi non possono e non devono sporcare l'immagine di un territorio fatto di lavoratori che spesso hanno sacrificato anche la propria vita per il lavoro. I dettagli in questa intervista realizzata con Francesco Garau, raggiunto telefonicamente questa mattina. Una lettera aperta che appunto hai inviato agli organi di stampa per relativo insomma a quello che è accaduto in questi giorni di cui tutti siamo abbastanza basiti, stupiti, ovvero le dichiarazioni dell'ex dipendente ormai pensionato di Carbus Sulcis, cosa che peraltro è rimbalzata alla cronaca anche nazionale che sicuramente non sta facendo del bene all'immagine del nostro territorio. Ma le motivazioni della mia lettera aperta sono proprio quelle. Non possiamo continuare a sostenere che queste cose debbano evidenziarsi come il male dell'Italia. Sono dei casi, dei casi isolati per fortuna, che il sindacato non condivide, non sostiene e non ha mai sostenuto. E non difende. Non difende, assolutamente. Quindi anche negli articoli che sono apparsi, specialmente nella stampa nazionale, si evidenziava proprio questo, come se qualcuno difendesse certi diritti. Ma noi siamo tutt'altro. In questa lettera aperta ho voluto evidenziare di chi sono le colpe del perché in questo territorio la Carbus Sulci sta andando come sta andando, non dobbiamo assolutamente gioire se quella miniera andrà in dismissione, è per dire che il sindacato è ben altro da quello che stanno facendo, da come lo stanno facendo a parire. Troppo spesso invece ci si risparmia invece di andare a indagare come mai, data la situazione particolare, vedi proprio Carbus Sulcis, ancora ci sono degli stipendi da capogiro per quanto riguarda direttori amministrativi e quant'altro. La cosa pubblica non è mai stata gestita come patrimonio pubblico. Ecco, quello che io voglio evidenziare è proprio questo. Andiamo a vedere, visti i risultati, perché quei risultati sono questi. Non sicuramente perché i minatori in questo caso, in quanto minatori hanno fatto andare male, o non hanno lavorato, hanno portato allo sfascio la miniera. Ma perché probabilmente, sicuramente, la politica e chi ha amministrato non ha portato avanti quello che doveva essere l'obiettivo di quella miniera. Valorizzare quella risorsa, utilizzarlo per le ricerche, portare avanti progetti che talvolta sono stati insabbiati o affossati per chissà quale motivo. Ecco, su quello si deve fare veramente luce, su quello si deve parlare. Un altro incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, si è verificato martedì sulla strada statale 126 all'altezza del Bivio per Parigianu. Forse per una mancata precedenza, due auto si sono scontrate finendo fuoristrada. Il traffico è stato bloccato per alcuni minuti dagli agenti di polizia che hanno eseguito i rilievi. Il fatto è avvenuto proprio una settimana dopo il terribile incidente mortale in cui, qualche metro più avanti, ha perso la vita un giovane di Carbonia. Restano ancora una volta aperti gli interrogativi sulla sicurezza delle strade del territorio. Furti, denunce per ricetazione, guida in stato di ebrezza. Continua l'attività di controllo dei carabinieri della Compagnia di Carbonia nel territorio. I dettagli in questo servizio. A Carbonia i carabinieri hanno denunciato un imprenditore di 30 anni, originario della Campania, per violazione colposa dei doveri sulla custodia di cose sottoposte a sequestro dall'autorità amministrativa nel corso di un procedimento penale. L'uomo, il 15 aprile e il 16 maggio di quest'anno, non avrebbe fatto rinvenire all'ufficiale giudiziario incaricato alla vendita alcuni beni mobili e immobili a lui affidati per un valore commerciale di circa 2.000 euro e pignorati ad una ditta da lui seguita, la quale era debitrice nei confronti di un artigiano di Carbonia che, vista ormai la situazione senza uscita, l'ha denunciato. A Sant'Antioco, invece, i carabinieri, al termine di diverse indagini, hanno denunciato una casalinga trentenne per incauto acquisto e un minorenne per ricetazione, perché nel luglio del 2013 la donna Ignara ha acquistato incautamente da un conoscente per un prezzo ritenuto congruo un telefono cellulare che era stato rubato dai gnoti ad un professionista che l'aveva lasciato dentro un borsello. Il telefono è stato rinvenuto e reso a legittimo proprietario. A Teulada, un allevatore di 45 anni del posto, è stato denunciato dai carabinieri per guida e stato di ebbrezza. L'uomo è stato fermato dai militari mentre guidava nelle vie del centro cittadino. Vista le sue condizioni è stato sottoposto all'alcol test, del quale è emerso che aveva un valore sei volte il massimo consentito dalla legge. Immediato il ritiro della patente da parte dei carabinieri. Dopo il forte vento di Maestrale, che ieri si è abbattuto nell'isola con 120 km all'ora, determinando la chiusura di alcuni porti e disagi nei collegamenti marittimi, oggi, secondo i meteorologi, le condizioni del tempo sono in lieve miglioramento con temperature intorno ai 20-21 gradi. A Portovesme, dalle 8.30 di questa mattina, sono riprese regolarmente le operazioni di ormeggio, disormeggio e commerciali, secondo quanto comunicato dall'ufficio circondariale marittimo. Nei prossimi giorni, secondo le previsioni dell'aeronautica militare, ci sarà bel tempo su quasi tutte le regioni, salvo addensamenti anche compatti sulle regioni adriatiche, ma senza fenomeni associati. La Regione Autonoma della Sardegna ha pubblicato l'avviso per l'attivazione dei centri di contatto informativi Youth Corner a supporto del piano di garanzia giovani. Il programma è orientato alla lotta della disoccupazione giovanile e della dispersione scolastica, nonché alla riduzione delle attuali distanze tra mercato del lavoro e opportunità di studio e formazione. L'amministrazione comunale di Iglesias ha avanzato la candidatura del servizio in forma giovani di Iglesias a diventare Youth Corner e far parte della rete dei centri di contatto informativo di garanzia giovani. Tale candidatura consentirà alla popolazione giovanile, alle famiglie e alle imprese del territorio di accedere in maniera diretta e completa alle diverse informazioni e pratiche del programma garanzia giovani. Prendere a il via domani il ciclo di otto seminari organizzato da Sardegna Ricerche nell'ambito del progetto Innovare e intitolato Strategie per le imprese. L'iniziativa è dedicata all'impresa e fornisce i loro strumenti operativi per gestire i cambiamenti e le incertezze e trasformarli in opportunità. Nel corso dei seminari si approfondiranno temi come la raccolta, l'analisi e l'interpretazione di informazioni riguardanti il mercato e i concorrenti e si illustreranno metodi e strategie per migliorare la competitività delle imprese. La partecipazione libera e gratuita per tutte le imprese interessate e previa iscrizione online. I posti disponibili sono 25 nei limiti di un rappresentante per azienda. I primi 25 iscritti riceveranno una conferma via mail da parte di Sardegna Ricerche. L'incontro di domani si terrà alle 9.30 a Piri in via Ampera 2. E' in programma per oggi alle 17 nella grande miniera di Serbario a Carbonia la performance di danza Transport Exceptionals. La performance è messa in scena dalla compagnia francese Beaujais nata nel 1981 per iniziativa di sette danzatori del Centre National des Danes Contemporain e guidata dal coreografo americano Alwyn Nicolais e l'ingresso è gratuito. Tutto pronto a Carbonia per la partita della solidarietà che si disputerà tra la nazionale attori contro i sindaci del Sulcis Iglesiente e i lavoratori ex Alcoa. L'incontro si svolgerà sabato prossimo alle 15 nello stadio Carlo Zoboli ed è organizzato dall'agenzia Espressioni Wedding Evoluzione 20. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto alle associazioni Talassalazione di Carbonia e la Caritas. E con questo è tutto. Io vi lascio alle previsioni del tempo. A seguire il nostro telegiornale in sardo Noas in curso e poi di seguito il programma di intrattenimento Trassas Makeup sempre in lingua sarda. Grazie per averci seguito. Grazie per averci seguito. Possibili raffiche fino a 19 km orari. Temperature minime comprese tra gli 8 e 17 gradi e massime comprese tra i 22 e 25 gradi.